Non c'è niente da salvare, per l'avanguardia è tentativa, non fai scondito di prima. L'avanguardia è molto pura, e per questo fa paura, fate volere l'avanguardia, se da un pubblico di merda, ha un'audita e ferirezza. L'avanguardia è molto seria, io vado contro corrente, perché sono venente. Sono ribelle, sono l'orore e la pelle. La pelle è la pelle. I servizi superi si coicottano